Un appello per il cessate fuoco globale per soccorrere e mettere in sicurezza tutte le popolazioni già messe in ginocchio da una pandemia che sembra inarrestabile, a cui si aggiungono le conseguenze economiche e sociali di conflitti mai sopiti. Dalle parole ieri all'Angelus di Papa Francesco emerge tutta la preoccupazione del Pontefice per il riacuirsi della tensione nella regione del Caucaso, teatro di nuovi pesanti scontri armati. Mentre assicuro la mia preghiera per le famiglie di coloro che hanno perso la vita durante gli scontri, auspico che con l'impegno della comunità internazionale, attraverso il dialogo e la buona volontà delle parti, si possa aggiungere a una soluzione pacifica a duratura. Il conflitto tra Armenia e Azerbaijan, che ha fatto più di 30.000 morti, si è concluso da 26 anni, ma una vera parola fine non è mai stata scritta. Ciclicamente infatti lungo il confine la guerra sembra risvegliarsi, come è successo qualche giorno fa. 20 le vittime di nuovi scontri che hanno al centro da sempre il controllo della regione Nagorno-Karabakh, abitata da una minoranza etnica armena, ma attribuita dopo la caduta dell'Unione Sovietica all'Azerbaijan. Scontri fomentati da proteste e disordini nelle due capitali e scambi di accuse tra i due paesi. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto nei giorni scorsi il ritiro immediato delle truppe armene, a cui ieri si è aggiunto l'accorato appello del Papa. In una situazione già critica per la pandemia, la ripresa del conflitto potrebbe avere conseguenze imprevedibili.